1.700.000 euro e quanto l'autorità portuale di Trieste sarà costretta a restituire a Green Seam se la società manterrà gli impegni realizzando i lavori di riconversione dei primi 5 magazzini del Porto Vecchio per cui ha ottenuto la concessione nel 2001. Questo è il senso della sentenza con cui il TAR del Friuli Venezia Giulia ha sostanzialmente dato ragione al gruppo di Maneschi sulla questione dell'antico scalo asburgico, aggiungendo che effettivamente doveva essere l'autority a rilasciare il permesso a costruire secondo le procedure del caso. Non facendolo infatti i vertici della torre del Lloyd hanno causato un danno ingiusto alla ditta ricorrente scagionato invece il comune di Trieste. Il dettaglio più importante però è legato al fatto che l'autority non sarà tenuta a restituire nulla se la concessione verrà lasciata a decadere o se non verranno fatti i lavori. Dovrebbe quindi essere uno sprone a proseguire con le attività e a dare finalmente quella scossa ai lavori in Portovecchio. Lavori e concessione però che potrebbero passare a breve di mano pur mantenendo inalterati i vincoli della sentenza visto che Maneschi ha recentemente confermato l'imminente passaggio di Green Seasam a un gruppo finanziario europeo. L'altra sentenza pubblicata ieri dal TAR blocca invece il progetto di rafforzamento del terminal ferroviario della Samer. Il TAR ha dato ragione al ricorrente la EMT di Parisi e annullato l'atto del comitato portuale esclusi i rappresentanti di ferrovie della presidente Poropat che avevano votato contro che aveva deliberato di rilasciare la concessione poi non firmata proprio in attesa del pronunciamento del TAR.